Un saluto dalla Spagna, agli amici del Giro d'Italia in Bike, da Vittorio Podestà. Io il 29 non potrò aderire al vostro invito per la presentazione, ma vi faccio un grande in bocca al lupo e continuate così, voi fate un lavoro molto importante per fare la promozione cercare i futuri atleti che magari un giorno potranno sostituire me, Alex Zanardi, Luca Massone, Francesco Porcellato ad alti livelli mondiali e nel frattempo voi sapete che questo è l'anno olimpico e per me sarà molto importante, sono qui apposta per cercare di prepararmi al meglio come ogni anno e magari cercare di ripetere i bellissimi risultati di questi ultimi mondiali e portare a casa un'altra bella medaglia dopo quella di Pecchino e di Londra. Un caro saluto a tutti, ciao!